Era importante vincere domenica, ci siete riusciti alla grande contro un avversario concorrente per la salvezza? Sì, domenica avevamo bisogno di una vittoria e è arrivata, è dato un grandissimo entusiasmo alla squadra e a tutti quanti per proseguire questo fine di campionato. Ecco, domenica arriva la Paganese, un'altra trasferta insidiosa, come l'affronterete? Sicuramente l'affronterete ha viso aperto perché andremo a Pagani per portare punti a Monopoli perché a noi servono, ripeto, per la salvezza. Ecco, il segreto del successo secondo te, tornando domenica scorsa, qual è stato? Ma tanta determinazione, umiltà e tanto lavoro che ci mettiamo in settimana e cerchiamo di finire tutto bene per avere il risultato importante. Ecco, sei diventato da poco papà, com'è stata questa emozione? È un'emozione bellissima, solo a viverla si può spiegare, spero di prima possibile di regalegli un gol, domenica ho fatto la maglia, Gabbina la ha portata e spero proprio di regalegli un gol, come ho detto.